Ateca Il frontale è tipico del marchio con una grande griglia trapezoidale a proiettori di forma triangolare che su richiesta possono essere full LED. Lateralmente imponenti passaruote incorniciano le belle ruote da 19 pollici, mentre convincono anche le linee decise del posteriore. Tra le tecnologie di bordo, Seat Ateca vanta il Seat Drive Profile e il Driving Experience Button, con quattro profili, Normal, Sport, Eco e Individual. Le versioni a trazione integrale includono anche i profili Snow, Off-Road e il sistema Hill Descent Control. Per quanto concerne l'infotainment, a bordo della Seat Ateca arriva il Media System Plus, con connectivity box e possibilità di ricaricare smartphone in modalità wireless, oltre a Seat Connect App, che consente di utilizzare i principali servizi dello smartphone tramite comandi vocali. Seat Ateca sarà offerta con una vasta gamma di motorizzazioni. Per i benzina si va dal 1000 TSI da 115 CV e cambio manuale 6 rapporti, al 1400 TSI 150 CV che vanta il cambio DSG a 6 rapporti e trazione integrale. La versione di accesso diesel è invece il 1600 TDI 115 CV, cambio manuale e trazione anteriore. Per passare al 2 litri TDI 150 CV offerto nelle versioni anteriore manuale a 6 marce o DSG 7, integrale manuale o DSG entrambe a 6 marce. Al top di gamma c'è invece il 2000 TDI 190 CV, cambio DSG 6 marce e integrale. Al top di gamma c'è invece il 1000 TDI 100 CV, cambio DSG 7, integrale manuale o 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 DSG 7.